Per peggiorare il decreto è tutto sulla pelle dei lavoratori, incana la dose SEL. Durì 5 Stelle, Renzi vuole la schiavitù, sarà guerra su ogni emendamento, viene promesso. Noi del Movimento 5 Stelle siamo gli unici a rigettare in toto questo decreto perché non condividiamo la soluzione che Renzi trova per la disoccupazione, cioè precarizzazione selvaggia e il fatto di non definire importante la formazione per chi sta imparando un mestiere.